Il mio segreto è soprabbondante Anche a papà, Alessandra, ma pure a me mi piace il parmigiano E voi ragazzi ce lo mettete in parmigiano con i spaghetti con le vongole? E parto un primo video di come fare la pasta in campeggio Devi fare una frequenza bassa No, 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 no E il tour della casa Ok ragazzi, vedete, qui abbiamo una nostra casetta Che fa parte di una serie dove ci sono tante altre casette Che però, Alessandro, questo è il parcheggio bici, vero Alessandro? Ciao, ciao, ciao Benissimo Allora, questa è la verandina Vedete che c'è il cancelletto Fai a vedere, fai a vedere tutto Allora, qua c'è tipo una tendina Sì In cui mamma ha messo lo stand di panni Sì Le sedie già c'erano Sì E c'è il tavolino con La sdraietto, no, ma pure lo stand di panni già c'erano Amici ce lo sono portati da casa Mare, è piaciuto a catturare papà Vai, apri Vedete qui le ciabatte le lasciamo fuori Vai, entra dentro Vi pure c'erano la scopa Vai a vedere tutto il tour Andremo a cucinare tra poco Vi faremo vedere la ricetta di spaghetti con le vongole Le vongole? Sì Poi, i spaghetti dove sono? No, ma sono questi che ho spettacolato Ok Spaghetti comprati da Eurospin Qui di Montalto Poi c'abbiamo le uova E la pancetta per farla carbonare Allora, quanto devo prendere? Che spettacularis Che spettacularis I spettacularis I spaghetti? Allora, fai vedere tutta la casa Fai vedere tutta la casa Poi dopo facciamo vedere Vai a vedere Vai a vedere Vai a vedere il bagnetto Che noi abbiamo messo in questo tasca anche E le scioglie Ok, facciamo vedere Qui c'è la doccia Qui c'è il lavandino Ok, la finestra Vai a vedere quell'altro bagno Poi c'è Poi non c'è il bagno Cioè, non c'è per fare la camo Lì non c'è la tazza, sì Però la mia so Ok E questa, la tazza Sì, su due persone Uno che deve andare al bagno A fare i suoi cosi E uno che deve andare al bagno A fare la doccia Allora, poi qui c'è una camera Fai vedere La camera da letto Sì, lo vediamo Ok Adesso è tutto buio Gira, apri la finestra Fai vedere che è con il luminoso C'è due finestre Non so, non so Ok L'abbiamo chiusa Qui c'è un'altra finestra Qui c'è l'armadio Qui ci sono i gommodini Con le ricariche Qui l'iPad Per giocare con l'iPad Qua c'è l'armadio Che noi abbiamo disposto Con questi robin In maniera tale che Li rimettiamo in borsa al volo E proviamo per andare all'altra parte Raga, è stretto Di tanto si sbatte Il ginocchio Da qualche parte Qua Gli spazi non sono tanto grandi Chiude Poi ne avrete Quell'altra stanza Questa qui è la stanza Più elettronica Tutta Ok Vabbè qui è casinata Raga E poi qui hanno trovato spazio Per un altro armadietto di qua E il filo di filo Allora andiamo a cucinare Vai Alessandro Allora Allora Questa La testa E poi Vai Alessa a sala Un po' di più Di più Di più Ok Ok basta Ok Ok Non ci viene Ossantà Ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. È morto a galla? È morto a galla, come si fa? Faccio vedere. Trattieni respiro, ragazzi, vi dà le istruzioni. Tanta aria dei polmoni più che potete. La testa giù nell'acqua più che potete in maniera tale che... Guardate come galleggia. Guardate. Guardate che morto a galla incredibile. Guardate che esce pure a nuotare. È morto che nuota. È morto che nuota, raga. Incredibile. Guardate, guardate. Guardate, attraverso i piedi si riesce a vedere... Il mitico... Il mio segreto. Abbondante, abbondante. Anche a papà, Alessandra, ma pure a me ci piace il parmigiano. E voi ragazzi, ce lo mettete in parmigiano di spaghetti con le vongole? Sapete che quelli che dicono che non ci va? È perché non l'hanno provato mai? Ragazzi, non vi fate fregare. Beh, ci può essere pure gente che non gli piace. No, perché non l'hanno provato, dicono. Se li provano, a voi gli si piace. Allora, vediamo pure la glicemia, va? Glicemia iniziale, 109. Ecco, ragazzi, se non ci vedete, ecco, se vuole un po' di parmigiano. C'è? Questo sì, servito. Ah, ragazzi, questo fa pure il bis. Buono. Dammelo pure a me il parmigiano, Alessandra. Poi io faccio il bis. Buono. La mamma si è mangiato delle friselle. Friselle, spiracina, scolla, cedriola e spaggetti di parmigiano. Ah! Oh. Grazie a tutti.